Signore, Tu vuoi liberare i prigionieri che sono in mese a noi, Tu spezzerai le catene, il bastone di Madian che grava sulle nostre spalle, il bastone della Cusino, perché Tu nasci bambini in mese a noi e vieni a portare la gioia e la pace. Signore, restavore il Tuo popolo liberi i prigionieri, fa che usciamo dalle nostre prigioni e veniamo a Te per cantare a Te che sei Dio, cantare a Te in Sion. Signore, è bello il canto che noi facciamo, Tu certamente lo gradisci perché nasce dal cuore. Un popolo che canta a Sto Signore è un popolo gradito a Lui. Però, Signore, Tu ci dici di cantare non soltanto con le labbra, di esultare non soltanto con il cuore, ma di cantare con la nostra vita. Signore, Ti chiediamo di interiorizzare i canti che noi facciamo e di isprimere i canti nella nostra vita. Una vita nuova, un cammino nuovo. Signore, certamente Tu gradisci il canto, ma non Ti puoi contentare del canto. È facile cantare, difficile vivere. E noi Ti chiediamo, Signore, questa sera di vivere quello che noi cantiamo. Fa che noi interiorizziamo il canto e viviamo per Te una vita nuova, una vita che ci tolga dalla mentalità del mondo, dal sentire del mondo e ci dia la mentalità dello Spirito, il sentire dello Spirito, innesti in noi la Tua vita. È questo che noi domandiamo, oh Signore. Lombi allora le nostre catene, liberici dalle schiavitù di Damasco, liberici di tutte le nostre schiavitù e mettici al Tuo servizio, perché noi Ti possiamo lodare con la mente, col cuore, con le labbra, con la vita. c'è una parola di Amos 9, versetto 14. Farò tornare gli esoli del mio popolo Israele e ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno i giardini e ne mangeranno il frutto. Grazie, Signore. Io ti lodo e ti benedico, Signore, che Tu sei un Padre misericordioso, Signore, che Tu ci fai ritornare a Te, oh Signore, e io ti lodo e ti benedico con tutto il cuore, Signore. Vieni, Signore Gesù, la preghiera che qui si compie deve essere la preghiera di tutti, dobbiamo essere tutti coinvolti nella preghiera, per cui ognuno di noi deve pregare, deve pregare. Non è la preghiera qui condotta da tre, quattro persone, ma è la preghiera condotta dallo Spirito. E siccome lo Spirito lo riceviamo tutti, tutti dobbiamo intervenire nella preghiera. Signore, manda il Tuo Spirito su tutti noi, perché tutti e tutti, indistintamente, dal primo all'ultimo, possiamo essere un popolo di preghiera, un popolo che prega. Signore, fa che non ci siano quelli che pregano e quelli che ascoltano, ma siamo tutti una cosa sola, tutti possono ascoltare e tutti a pregare. Signore, Tu ci hai dato una parola, e su questa parola che noi dobbiamo insistere, finché non venga un'altra parola, spesserò il catenaccio di Damasco, ed è appunto il primo rigo del versetto. Cinque. Poi ci sono due appellativi di Damasco che appartengono a Damasco, significa case di iniquità, case del piacere. Il Signore ci vuole liberare da Damasco, cioè dalla casa dell'iniquità e dalla casa del piacere. chiediamo al Signore che avvenga questa liberazione. Ci sono dei prigionieri di Damasco che possono trovarsi nella casa dell'iniquità e altre che si possono trovare nella casa del piacere. Il Signore ci vuole liberare, in modo che nella libertà dei figli di Dio possiamo camminare con Lui. Lode e glorie a Te, Signore. Canterò le Tue lode e tutti esulteranno le mie labbra e la mia vita che Tu hai riscattato. Santo, Signore, cantando le Tue lode le mie ossa esulteranno di gioia e tutta la mia vita canterà a Te perché Tu mi hai riscattato, Signore. Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la Tua giustizia quando saranno confusi e umiliati quelli che cercavano la mia rovina. Sì, Signore, le mie ossa esulteranno di gioia, la mia lingua Ti canterà sempre perché Tu mi hai liberato. Signore, noi vogliamo cantare a Te la nostra gioia perché Tu ci hai liberato dal peccato e ci vuoi continuamente liberare delle occasioni peccaminose. Ci vuoi liberare da tutta la nostra iniquità. Ci vuoi trarre fuori dalla casa del piacere in modo che possiamo servire a Te in anima e corpo perché siamo il tuo popolo. Lode e gloria a Te. Lode le mie Isытore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.